Un'ulteriore opera di misericordia viene rappresentata nell'estremo del quadro e rappresenta un carcerato che viene visitato, visitato da Gesù che si curva su di lui, che lo guarda e visitato soprattutto da un fratello che in qualche modo lo consola. In che modo? Additando l'alto. Perché addita l'alto? Perché le catene, che sono le catene di chi è in carcere ma anche le catene che abbiamo nel cuore, possono essere liberate proprio dal dono che ci viene dall'alto e chi allora va a visitare i carcerati si fa tramite di questo annuncio di liberazione perché appunto la solidarietà diventa anche un modo perché le catene siano meno pesanti. Io sono Don Gigi, sono il cappellano di questo grande albergo, lo chiamo così io, l'albergo che è il carcere di Vicenza, ovvero la casa circondariale, qui ci sono i detenuti che non sono così per scontare tutta la pena lunga ma in attesa di un giudizio definitivo. Io sono qui che opero da un anno e mezzo ed è stato veramente un anno e mezzo veramente molto bello. L'anno e mezzo della misericordia, lo chiamo così. Ho cominciato un percorso che è nato per caso con l'aiuto del mio vescovo e che adesso sto sempre di più cercando di mettere a fuoco. In questo contesto sto comprendendo alcune cose, per esempio prima di tutto sto comprendendo che questo non è un carcere, è come un ospedale, un ospedale dove passano delle persone che hanno certe malattie e che devono guarire da queste malattie. Quindi non deve essere un passaggio per dire qui si muore, no, qui si guarisce di qualcosa. Il secondo elemento fondamentale è questo, dobbiamo guardare al carcere come a una opportunità, come quando una persona è costretta a fermarsi, è costretta a pensare, è costretta a ragionare sulla sua vita e forse è la prima volta in tutto l'arco della sua esistenza che ha trovato questa opportunità e quindi c'è la possibilità concreta di ricominciare. Ma qui c'è bisogno di qualcuno che abbia l'arma della misericordia, un'arma meravigliosa che Gesù ci ha insegnato, che ci permette proprio di entrare nella dimensione nuova. E il terzo elemento fondamentale è questo, no? Stiamo vivendo un ritorno, un rigurgito della voglia di vendetta. Io vedo nella cultura, no, anche così, a livello anche politico, il desiderio della vendetta, quindi te la faccio pagare. La vendetta è comprensibile. Quando viene ucciso un familiare bisogna avere il coraggio di riconoscere se c'è qualcosa di pesante. Però la vendetta non deve essere lo standard di un popolo civile che vuole trovare la giustizia, che vuole trovare la propria pace al proprio interno. La vendetta non ha prospettiva. È comprensibile ma va messa da una parte. Quando la vendetta viene utilizzata come arma legislativa non c'è speranza. Quindi vogliamo proprio vedere il carcere come un'occasione, un'occasione per rivedere la propria vita, con l'aiuto di alcune persone che hanno così dentro di sé questa forza, non buonista. Io personalmente sono contrario al termine buonista perché l'ingenuità. Non siamo ingenui. Dobbiamo essere furbi e astuti, dobbiamo essere capaci di capire chi sta giocando con gli operatori e chi invece veramente desidera riscattare la propria vita. Quindi no, attraverso questa astuzia, che è anche il Vangelo che ci invita qualche volta ad essere astuti come le volpi, dobbiamo cercare di entrare e di aiutare attraverso il lavoro, attraverso il dialogo personale, attraverso un ambiente che sia il più possibile civile e vitale e non quindi un ambiente che hai in mano soltanto il concetto te la pagherò. Ecco, questa è la misericordia. La misericordia che il Papa ha chiesto per il carcere, un po' per tutti, è che trova proprio nel carcere il suo emblema, proprio il suo vessillo. Chi vive nel carcere sa che con la giustizia si va avanti fino a un certo punto, però se si vuole proseguire oltre bisogna andare nella misericordia.